Dopo i dati nazionali sull'attività della Polizia Postale nel corso del 2020 arrivano quelli a retini. Anche ad Arezzo i reati legati alla rete sono aumentati. Oltre 200 le persone denunciate con un incremento di quasi il 90% rispetto al 2019. 15 i casi di trading online che hanno procurato danni per oltre un milione di euro. Particolare attenzione all'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni del revenge porn e del sex extortion che sono aumentati del 35%. Anche il phishing finanziario ha visto un notevole incremento essendo aumentato di parecchio l'uso delle carte di credito, frodi e truffe che hanno causato danni sia a semplici cittadini che ad imprese. Particolarmente intensa l'attività investigativa di contrasto alla pedofilia online con l'esecuzione di numerosi decreti di perquisizione e sequestro di materiale. Nonostante le misure anti-covid e l'attività di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole è proseguita attraverso piattaforme di videoconferenze coinvolgendo numerosi istituti e oltre un migliaio di studenti. Anche nell'Arettino il contrasto alla diffusione delle fake news è stato importante in questo senso e è stata fondamentale la collaborazione dei cittadini che hanno inviato numerose segnalazioni.